ciao ragazzi e ragazze mi è arrivato per posta questo volantino qui dell'ipercop dal 2 al 15 maggio dal 30 al 40 per cento di sconti e se volete vi faccio vedere qualcosa ma che c'è il rigone qua c'è la piega la stiriamo per esempio il dash 4 flaconi a 7 euro 99 un'offerta incredibile veramente 4 flaconi prezzo buonissimo poi c'è il caffè lavazza qualità rossa guarda invece di 16 euro 40 9 euro 84 con lo sconto del 40 per cento 6 confezioni un chilo e mezzo che miseria buono io il caffè lavazza lo uso tra l'altro 6 confezioni 9 euro 84 buonissima poi c'è il maxi offerta loro salva i biscotti secchi per quelli che magari vogliono mangiare leggeri con il mio marito che è sempre in dieta con lo sconto del 40 per cento 3 euro e 49 maxi offerta un chilo e mezzo di biscotti anche qui ma che confezione grossa sono tutte confezioni grosse poi qua cosa ci abbiamo le trecine 1 euro e 19 del mulino bianco i plum cake 2 euro e 31 la torta al limone che buona 3 euro e 49 latta cofanetto cosa l'è sta roba qua sono delle latte latte cofanetto ah latte con pasticceria sortita ma che carina che per regalarle composte di frutta bio alce nero 3 euro e 7 un riso scotti 1 euro e 99 la pasta rummo un 0 74 centesimi questa qui la devo prendere buona la pasta rummo è 74 centesimi i cracker 99 centesimi questo cos'è ah guarda che c'è anche la pasta fibre extra 83 centesimi della misura è sono tutte extra pasta integrale questo che cos'è ah il pan bauletto 84 centesimi le pringles 1 euro e 39 le piadine la piada sfoglia l'olio extravergine di oliva 1 euro e 44 poi vabbè qui sono tutti gli sconti del tonno conviene non vi dico 1 1 perché sono qua viene notte guarda l'olio extravergine dante 2 euro e 99 eh caspita questo è un bello scontone anche questo ragazzi spumante prosecco doc 4 euro e 48 oh questo qua bisogna andarlo prendere anche questo il dolcetto l'olio extravergine d'alba 3 euro e 99 oh il grignolino d'asti oh il sangiovese trebbiano 1 euro e 90 questi anche per far da mangiare va bene la birra tubor 85 centesimi il bonarda che buono 1 euro e 99 le coca cola 2 euro e 19 confezione da due il saltan saltal ace anche questo per i soci 1 euro e 19 le birre le lattine 1 euro e 9 centesimi qui abbiamo il latte 2 euro e 59 il granarolo io prendo questo lo zimil senza lattosio 1 euro e 19 sempre con la tessera guarda le confezioni di yogurt 2 euro e 19 8 confezioni di yogurt la panna chef 1 euro e 49 qui cosa c'abbiamo il parmareggio fettine al parmigiano reggiano 1 euro e 78 laktimel 2 euro e 30 il salmone norvegese 3 euro e 70 oh questo qui della valsoia bevande vegetali valsoia va sempre bene per me senza lattosio 1 euro e 59 tramezzini farciti 1 euro e 72 piadina romagnola 2 euro e 59 vabbè bevande vegetali la linea vegetale gran gourmet con lo sconto del 20 per cento la pasta ripiena con il 30 per cento di sconto qui ci abbiamo quella guarda che booster booster wuber 1 euro 69 guarda qua granarolo mozzarella 1 euro 99 la confezione di 4 mozzarelle guarda conviene anche questo della santa lucia la ricotta 89 centesimi e se hai la tessera 79 centesimi il filadelfia 1 euro 99 la certosa anche qui con sconto del 40 1 euro 91 il prosciutto qua le sofficette hanno lo sconto del 25 il grana padano già grattato ora più i 30 per cento di sconto 1 euro 74 ui cornetto cornetto algida col 40 per cento di sconto 2 euro 99 ui il cucciolone quanto tempo io non posso perché con lattosio cucciolone 2 euro 65 sempre confezioni da quanto ce n'è dentro qua 8 pezzi 8 pezzi cornetti e 6 pezzi il cucciolone gelato regionale la cremeria 2 euro il bounty il mars il come si chiama quell'altro lo sneaker tutto col 30 per cento di sconto qui abbiamo la carta igienica chilometrica e qui ragazzi ce n'è per chilometri e chilottri se dovete andare in bagno per un mese siete a posto chilometrica tenderli 40 per cento di sconto è colorazione per capelli palette e testa nera 3 euro e 29 la palette io l'ho provata è buona lo shampoo antiforforo anche questo dell'antica arboristeria è buono 1 euro 29 doccia schiuma della badedars 99 centesimi detergente liquido neutro robes 1 euro 19 il bagno schiuma vidal guarda qua 25 per cento di sconto questo anche detersivo liquido per i piatti al limone 80 centesimi questo deve essere buono chi è che avvicino l'ipercop conviene tante offerte 30 40 per cento qualcosina interessante io andrò a fare un giro perché non è lontanissimo da casa mia se vi può interessare a me mi è arrivato così per posta va bene un bacione e un abbraccio ciao ciao